ciao amici ecco una ricetta dolce classica amata e conosciuta oggi per voi in chiave vec e dietetica il bacio di dama noi uniamo il sapore delle mandorle e delle nocciole per farle incontrare con il cioccolato fondente una deliziosa trovata se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ricetta dolce vegana ecco come si prepara 200 grammi di farina integrale 120 grammi di nocciole spellate 150 grammi di burro di soia 80 grammi di zucchero integrale di canna latte di soia o riso quanto basta un pizzico di sale integrale un cucchiaino di vaniglia in polvere un cucchiaino di lievito per dolci per la farcitura 50 grammi di cioccolato fondente all'ottanta per cento un cucchiaio di crema di mandorle tempo di preparazione 60 minuti più 30 minuti di riposo non vedo l'ora di iniziare a prepararle 1 prima preparate l'impasto principale preriscaldate il forno tritate le nocciole con un robot da cucina fino a renderle polvere e unite lo zucchero unite farina integrale lievito sale vaniglia e frullate per qualche secondo unite anche il burro di soia e frullate ancora aggiungete del latte vegetale solo il necessario per poter lavorare il composto con le mani 2 poi date forma ai dolcetti inumidite le mani e formate delle palline grandi come una noce mettetele su una teglia rivestita con un foglio di carta da forno e schiacciate le leggermente per dargli la forma 3 ora cuocete in forno cuocete per 25 minuti circa poi fate raffreddare su una griglia 4 preparate la farcitura sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria insieme alla crema di mandorle mescolando con una spatolina 5 finalmente date la forma ai baci spalmate uno strato di crema al cioccolato e mandorla sulla parte appiattita di ogni biscotto e ora unite le due metà per ottenere i classici baci di dama mettete lì in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servirli gustatevi i baci di dama veg fatti con le vostre mani in versione dietetica nasce nella città di tortona alessandria più di un secolo fa e ancora oggi viene prodotto secondo la ricetta originale in diverse pasticcerie piemontesi in più versioni alcune ricette hanno la mandorla come ingrediente di base mentre altre usano la nocciola per il suo sapore deciso e caratteristico proprietà degli ingredienti principali il cioccolato fondente è un potente antiossidante che ha effetti benefici sul sistema cardiocircolatorio è un antidepressivo naturale le nocciole sono energetiche ricche di minerali infatti rinforzano denti ossa e proteggono le articolazioni i muscoli le mandorle contrastano il colesterolo e sono utili nella prevenzione di anemia e osteoporosi regolarizzano l'intestino la farina integrale è ricca di fibre contrasta la stipsi e limita l'assorbimento dei grassi la vaniglia è un antiossidante che previene l'invecchiamento della pelle ha un effetto afrodisiaco e combatte stress nervosismo e insonnia lo zucchero di canna è ricco di vitamine e minerali contiene acido glicolico vero e proprio elisir di bellezza per la pelle il latte di riso è ricco di zuccheri semplici e fornisce energia immediatamente disponibile molto utile in caso di intensa attività fisica il latte di soia è ricco di aminoacidi essenziali e proteine con poche calorie e grassi buoni baci di dama a tutti per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche mangia consapevole e vivi meglio grazie a tutti